Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, siamo pronti a conoscere un giovane che arriva ad Aria a Sanremo, Matteo Faustini Giovane davvero, cioè la carta d'identità parla chiaro, 25 giusto? 25 esatto, ciao a tutti, grazie mille Allora, partiamo da una curiosità perché a me ha colpito particolarmente tu hai già un mestiere molto definito che è quello di maestro quindi a un certo punto ti trovi anche a fare il cantante quindi chi è Matteo? Guarda, in modo proprio super sincero, Matteo è un cantautore, è un ragazzo, è un essere umano che ha trovato nella musica il veicolo per star meglio io ho cominciato a fare il maestro perché ho bisogno di uno stipendio e lo stipendio lo utilizzavo tutto per autoprodurmi e finanziarmi i video e la musica quindi è sempre stato un piano B di un piano A che è qui adesso E quindi riesci però, come è andata? Sei arrivato a scuola quando è arrivata la chiamata quindi ti hanno detto Sanremo, ok e cosa hai detto ai tuoi ragazzi, ai tuoi alunni? Beh, guarda, loro sono, ho detto, loro lo sapevano che, perché ho fatto area Sanremo area Sanremo è un percorso lunghissimo di due o tre mesi e quindi li stavo avvertendo che ci sarebbe potuta essere questa opportunità e possibilità e sono increduli, però sono contento perché anche se adesso non gli sto facendo lezione nel mio piccolo gli sto insegnando che se credi nei tuoi sogni con costanza, perseveranza e con la verità ce la puoi fare E devo dire che forse è uno degli insegnamenti più grandi al di là del ginnastica e musica, giusto? Sì, bravissima Mi dicevi, album in uscita, tutto sulle favole Sì, si chiama Figli delle favole, io mi reputo un figlio delle favole e amo utilizzare come metafore le metafore Disney e delle fiabbe per comunicare dei messaggi e dei valori nei quali credo tantissimo infatti nel disco si parlerà di diverse tematiche che mi stanno a cuore dal bullismo, al razzismo, nella canzone che si chiama Il Gobbo all'Unino alla vita, che è un po' bella, è un po' bestia e insomma, tante favole Tutto questo Disney, anche nel tuo cappotto, cioè nel tuo abbigliamento c'è un po' di fantastico, no? Cioè, quello che vuoi comunicare è un vedere al di là Bravissima Parliamo però della canzone che porterà in gara, nel bene e nel male Sì Parlaci di lei Questa canzone vuole essere un omaggio a tutte le persone che abitano in modo permanente le stanze del nostro cuore Secondo me in ogni essere umano c'è una parte di bene e una parte di male ma quanti sono davvero disposti a amare entrambe? E secondo me se il male viene perdonato, accettato, ma soprattutto risolto dentro ci si trova del bene Wow, è bello potente Grazie Forte Sai, delle volte con un giovane ci si aspetta un po' più sesso, droga, rock e roll No, no Invece sei bello centrato Mi dicevi prima, stai insegnando delle cose ai tuoi ragazzi che ti guardano in questa esperienza Se dovesse andare bene, wow, l'insegnamento, proprio il coronamento del sogno Se Matteo dovesse tornare a casa non vincitore, qual è il messaggio che porta? Guarda, io non so come andrà indipendentemente dalla classifica numerica Ho già vinto, cioè sono qui a Sanremo Io ho quello che spero tantissimo che il disco possa essere ascoltato perché amo il concetto di poter fare del bene attraverso delle note, delle parole Quindi poi ci sarà comunque un po' di promozione Se dovessi tornare a casa e non dovessi nel momento vivere di musica Caspita, ripeto, ho insegnato ai miei bimbi, a quei patatoni Gli ho insegnato che veramente se scegli il bene ogni giorno E se non tanto fare una cosa che ti esce bene Ma una cosa che hai bisogno di fare Se tu segui una cosa che hai bisogno di fare Allora funziona Quindi la competizione non la senti? La competizione, oddio, uno contro uno ci sarà Però no, ovvio che c'è, ovvio che spero di andare avanti Ma sono tutti validi, abbiamo tutti dei progetti Poi si vedrà dopo Sanremo Va bene, e in bocca al lupo per il tuo percorso Matteo, ultima cosa, così concludiamo la nostra intervista Ti chiedo un saluto a quella camera per tutti gli ascoltatori di Radio Bruno Ma certo, un saluto gigantesco e un abbraccione da Matteo Faustini A tutti gli ascoltatori di Radio Bruno Radio Bruno al Festival di Sanremo In collaborazione con L'Isola dei Tesori Grissimbon Renault Franciosi Nutrileia ODS Giocattoli Italpizza B per Banca Marlou Diversamente tu ODS Giocattoli